Io lavoro con CED ormai da più di dieci anni penso, forse anche di più, devo dire nettamente positiva, a parte il rapporto personale che ho creato con le persone che lavorano per CED, ho trovato CED un'azienda innovativa e che ha permesso innovazione anche alla mia personale azienda, alla mia struttura in termini di capacità e competenza. Principalmente mi è stata utile perché mi ha permesso a me e al personale della mia azienda l'accesso a formazione di cui non conoscevo neanche l'esistenza e che mi è stata molto utile nella professione. Ne direi uno e basta, avanti!